L'Union fa la forza, lo sanno bene Eurocalcio e Cassola che firmano uno storico accordo per unire i due settori giovanili sotto il nome appunto di Union-Eurocassola. Un polo che coinvolgerà oltre 400 ragazzini candidandosi di diritto a punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio e cosa ancora più importante per l'impegno nel sociale. Penso che il tempo sia giunto maturo per fare questa scelta, ci siamo trovati d'accordo anche con il presidente del Cassola, questo mira soprattutto per il sociale perché ci troviamo con un gruppo di oltre 400 ragazzi, parliamo dagli allievi in giù, lavorando così lavoriamo sul sociale e specialmente sul territorio. Abbiamo pensato sì che per l'intero paese fosse opportuno unire il settore giovanile lasciando separate le squadre grandi, Juniors e prima squadra. Diventa un po' più facile anche l'aggregazione di altri magari giovani limitrofi che magari troveranno un ambiente importante. Soddisfatti anche il sindaco di Cassola Aldo Maroso e l'assessore allo sport Marta Orlando Favaro che hanno accolto con entusiasmo questo progetto. Cosa significa questo progetto per il comune di Cassola? Beh per il comune di Cassola devo dire che è una bella soddisfazione, intanto significa una bella soddisfazione. Significa dare la possibilità a tutti i ragazzi del nostro comune di praticare lo sport che amano all'interno del loro territorio. Grazie a tutti.